Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quello che vedete qui nel riquadro qua è la nuovissima corona della Cube Controls ragazzi la F Pro questa è la seconda generazione uscita un anno fa ragazzi che l'hanno recensita in un miliardo di modi e di lingue ed è per questo che se volete sapere le caratteristiche tecniche di come funziona eccetera abbiamo degli youtubers italiani che sono veramente bravissimi e preparatissimi io mi limiterò a fare la mia recensione da pilotino della domenica ragazzi con la mia esperienza di utilizzo di questa corona in questi giorni come avrete visto sicuramente per chi mi segue l'unboxing è stato veramente molto diciamo cerimonioso nei confronti di una mia faccia molto sorpresa quando ho aperto lo scatolo di questo F Pro della Cube Controls sapete perché perché a parte il design che personalmente mi piace veramente tantissimo perché ci trovo tantissima italianità in questo prodotto qui lo stile la ricerca del dettaglio ricordiamo che Cube Controls sono ragazzi italiani ragazzi e stanno facendo un lavoro eccezionale talmente eccezionale che hanno deciso di dare ascolto ai feedback dei propri clienti per cercare di portare delle migliorie in questa seconda versione di questo F Pro che ricordiamo la prima versione era stata valutata come quasi perfetta ragazzi quindi sono veramente dei geni per quanto riguarda la rielaborazione di un progetto già ottimo di per sé per tornare sul mercato con qualcosa di veramente fantastico stiamo parlando di una corona che pesa 1.100 grammi di passione ragazzi di dettaglio la cura è maniacale come dicevo stiamo parlando di una scelta di materiali premium con un corpo presso fuso in alluminio ragazzi con delle serigrafie che ormai caratterizzano i prodotti di Cube Controls qui all'occorrenza una serigrafia F Pro bianca e Cube Controls sulla parte superiore della corona che al tatto ragazzi è fantastico una texture pazzesca e non manca anche che però non è serigrafata questa però c'è anche il F Pro davanti quindi materiale presso fuso in alluminio stiamo parlando del mozzo proprietà in alluminio annotizzato blu la qualità io non credo che la mia webcam qui possa farvi capire la qualità di questo colore di come è figo e soprattutto la qualità e stiamo parlando anche di un mozzo di proprietà che permette di poter fissare tutti i quick release delle maggiori marche diciamo dei direct drive dal 50.8 al 70 si possono mettere tutti qui all'occorrenza c'è quello del simcube 2 Pro ragazzi le palette delle marce solo il sound vabbè vi fa impazzire le mogli perché comunque è rumoroso diciamo la verità e le levette qui per il launch control o frizione acceleratore freno come volete hanno una sensibilità pazzesca e sono regolabili in tutto sia fisicamente che a livello di sensibilità via software vi faccio apprezzare la cura con il quale hanno creato delle asole dappertutto per poter sistemare le distanze delle levette per adattarsi a quelle che sono le lunghezze delle dita di ogni utilizzatore quindi anche la personalizzazione del settaggio delle posizioni delle levette è una ricerca di dettaglio perché non tutti ve lo consentono poi devo dire la verità che la fibra un po dappertutto fa proprio figa il colore del mozzo e delle parti in alluminio anodizzato dietro è personalizzabile sul sito si possono scegliere vari colori nella parte frontale abbiamo questa placca che è 100% in fibra di carbonio quindi stiamo parlando di materiale premium la ricerca del dettaglio va oltre anche al materiale ma bensì a delle piccolezze sto parlando ad esempio di queste cornici intorno ai pulsanti che non rappresentano soltanto un fattore estetico dando una certa profondità un certo rilievo anche a livello visivo per evitare di far sembrare la piastra avanti troppo piatta ma anche una funzionalità per dare un'indicazione della posizione e del corretto utilizzo dei pulsanti un esempio per farvi capire c'ho un casco di realtà virtuale sento le cornici e so esattamente dove sono posizionati i pulsanti può sembrare una banalità ma non lo è inoltre questi 12 pulsanti sono di altissima qualità e sono retroilluminati RGB cioè potete scegliere il colore di ogni singolo pulsante che è interessante si gestisce con il software messo a disposizione da Cube Control oppure tramite CIMAB che la riconosce come perica esterna e che si può configurare con una certa facilità sono presenti quattro encoder rotativi in alluminio che sono di un dettaglio e di una qualità eccezionale molto precisi ed in più i ragazzi di Cube Controls hanno pensato bene di inserire e di incastonare due encoder rotativi nel corpo e sui pollici encoder da pollici all'apice diciamo di delle impugnature per offrire maggior precisione nell'input del comando che si dà proprio per evitare che ste rotelle vanno avanti e indietro come gli pare cioè qua gli innesti sono netti gli innesti sono molto netti e precisi ed è per questo che li hanno incastonati una cosa che mi fa impazzire e che non si trova sempre sono questi due D-pad sempre D-pad praticamente che hanno la funzione del D-pad normale più c'è la parte rotativa e ce ne sono due e anche questa parte è in alluminio anodizzato in questo caso sempre blu perché il colore che è stato scelto è il blu veramente fighissima questa funzionalità mi piace da morire sono presenti due led nella parte superiore uno ad indicare lo stato della batteria cioè se sta caricando se scarica oppure se è connessa semplicemente e la parte del bluetooth perché? perché questa corona si può collegare in dual cioè in bluetooth oppure in usb con il cavo Qcon che è una novità pazzesca che viene a spazzare via tutte le problematiche dei cavi che si scollegano e che sono fastidiosi queste sconnessioni mentre uno sta guidando e inoltre evita di tranciare il cavo proprio perché è molto resistente c'è un magnete pazzesco io fino adesso non ho avuto nessun tipo di problema e il bluetooth che è Cube Controls che dichiara di avere un input lag pari a zero il bluetooth ricordiamo che dà la possibilità di collegare la corona direttamente al vostro pc bypassando le basi direct drive ovviamente i dangle per collegare la corona al pc devono essere di una certa qualità e di una certa performance ovviamente una caratteristica che mi piace di questa corona e che è stato leggermente criticato sono le impugnature ragazzi perché è fatto di un materiale di una plastica non rigida una plastica che ha una certa resistenza ma che comunque applicando una certa forza si piega un pochettino è stata criticata per ma leggermente per in certe situazioni di force feedback dove praticamente con un force feedback abbastanza strong risultano un po' scivolose io non ho avuto questa problematica pur utilizzando un force feedback di un certo livello forse perché utilizzo dei guanti che non sono anche racing ma sono per fare peso che ha un grip abbastanza particolare quindi non ho avuto questo problema qui e poi questo intaglio qui che sicuramente sono delle entrate per poter smontare il volante però che io trovo fighe perché caratterizzano anche il design la ricerca come dicevo è pazzesca di questo volante qui e quella che mi impressiona di più è la familiarità e al contempo la robustezza che conferisce questa corona appunto al suo utilizzo è molto semplice ragazzi a parte il connubio tra materiale premium estetica quello che sono riusciti a fare i ragazzi di Cube Controls è anche quella di darvi un utilizzo di una corona semplificato cioè prendete in mano la corona e vi sentite a casa questo senso di familiarità e inoltre la ricerca di dettaglio va oltre a quello che è il semplice tenere una corona in mano ma bensì anche il posizionamento dei tassi che vi parlavo poc'anzi è fatto in modo tale che non si stacchino mai le mani dalle impugnature che non è poco è un qualcosa di ricercato lo fa anche un'altra azienda a dire il vero e non l'avevo capito subito però in realtà poi utilizzando mi sono reso conto di questa particolarità ovviamente gli encoder ragazzi dovete alzare le mani dovete staccare le mani però i pulsanti praticamente potete andare a ricercarli senza mai staccare le mani è dotato di una batteria che vi offre circa 40 ore di autonomia e questo dipenderà da che cosa? dal brightness, dalla luminosità al quale configurerete i vostri pulsanti però 40 ore ragazzi è una figata pazzesca e il pulsante è stato chiesto a gran voce proprio per poter spegnere la vostra corona è situato in un posto abbastanza strategico che staccando il volante si trova facilmente perché visivamente si vede che è qui proprio qui lo vedete sto pulsantino però è un po' fastidioso andare a ricercare e vi ritroverete con i vostri led accesi in questo momento ho preso l'ultima configurazione del software Cube Control si può anche configurare con Simab come dicevo senza nessun problema ragazzi cosa dire 1100 grammi di pura bellezza performance di dettaglio di qualità sono 1100 euro anche con la spedizione più o meno però devo dire la verità che per un prodotto di questa fascia qui vale veramente la pena tenere in considerazione se uno vuole passare a un qualcosa di premium su questa corona qui secondo me questa corona qui fa parte di quelle corone che sono la via di mezzo tra c'ho lo schermo e non c'ho lo schermo in pratica perché ha un equilibrio pazzesco c'ha una qualità di materiali premium c'ha una ricerca di dettaglio pazzesca ragazzi è il divertimento assicurato perché c'è un equilibrio in tutto quello che è presentato in questo prodotto che è fantastico e siete confrontati a un Madeleine in Italy che ad oggi mi sento di dire mi rende veramente orgoglioso e con quest'ultima frase ragazzi io ho concluso quelle che sono le mie umili opinioni rispetto a questo F-Pro Cube Controls di seconda generazione devo solo complimentarmi con questa azienda e con questi ragazzi e dirgli continuate perché fate dei prodotti fantastici spero che queste mie umili opinioni vi siano piaciute e se è il caso ragazzi lasciate un pollice in su che fa sempre piacere commentate iscrivetevi al canale tanto è gratuito ci sono ancora delle belle novità da vedere c'è il Simcube 2 Pro da rifensire che non è poco vi ringrazio ancora per avermi seguito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice e tutto un abbraccio ciao